Un gol per tempo è Ragusa che torna dalla trasferta di Torrecusa a mani vuote. Anche stavolta gli azzurri hanno pagato pegno fuori casa e neanche l'avvento del neallenatore Roberto Sorrentino è servito a scuotere la squadra e a invertire la sempre più inquietante tendenza. Con quella di ieri fanno sei, sei sconfitte stagionali che significano terz'ultimo posto in classifica assieme alla Rende. Anche ieri la squadra è stata poco incisiva in avanti e abbastanza distratta in difesa e andando avanti di questo passo le prospettive di risalire la corrente potrebbero farsi sempre più complicate. Morto meglio invece tra le siciliane sia l'Acregas 1-0 allicate che il 2-torri 3-1 al comprensorio Montalto mentre l'Orlandina un'altra squadra rispetto alla formazione brillante di avvio stagione ne ha beccate 5 dalla Cavese. Male anche il Messina travolti in casa la nuova gioiese così come il noto K.O. a Pomigliano mentre invece il Savoia riscatta la prima sconfitta stagionale del turno precedente superandini scioltezza 2-0 la Vibonese alle spalle sempre a tre lunghezze l'Acregas di Rigoli che nonostante lo strepitoso fin cui campionato deve continuare ad inseguire.